E attivate questo sensore. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Il positivo è MP nemico identificato, usate le cariche per discuserlo. Carica sul mercato. Il generatore MP è in carica, tenete il nemico a distanza. Informazioni sulle posizioni del nemico in arrivo. Granata! Granata, un assessore! Datemi munizioni! Ecco le munizioni! Let's go, Naviato! Un assessore! Un assessore! Un assessore! servono munizioni avete dati sulle forze nemiche vissi Grazie a tutti Grazie a tutti Sono a terra! Medico! Avete bloccato la loro ZA principale. I rinforzi nemici ora arrivano dai lati Abbiamo attivato il sensore. Proteggetelo! Datti del sensore recuperati. Abbiamo vinto! Grazie a tutti!